Come Corpo dei Capitani di Porto Guardia Costiera siamo già partiti con l'operazione consueta Mare Sicuro, per Mare Sicuro sicuramente dobbiamo consigliare a tutti gli utenti del mare di adottare tutte le prescrizioni di sicurezza soprattutto nella navigazione da di porto, soprattutto nella navigazione da di porto occasionale, quella che viene fatta con i natanti quindi che non presuppone un titolo di abilitazione, controllare prima di partire le dotazioni di sicurezza, delle imbarcazioni e soprattutto controllare poi i limiti di abilitazione che si posseggono. Sicuramente bisogna dare un consiglio rispetto a chi usufruisce del mare soprattutto per le età più anziane, per le persone più anziane, per il discorso di non esporsi troppo nelle giornate più calde e soprattutto nelle ore più calde. Il consiglio che mi sento di dare è che quando si ravvedono problematiche di sicurezza o di emergenza di contattare il numero per l'emergenza che è il 1530 della Guardia Costiera.